Paul Nathorp e la scuola di Marburgo. La vita di Paul Nathorp si svolge tra il 1854 e il 1924. Egli è insieme a Cohen il più importante esponente della cosiddetta scuola di Marburgo. Il fondamento della scuola di Marburgo, come sappiamo, è l'ideale critico di un ritorno a Kant. Nathorp si laurea insieme a Gadamer e diventa professore a Marburgo a partire dal 1892. Un suo testo fondamentale è La dottrina platonica delle idee del 1903. Altro testo decisivo sono i fondamenti logici delle scienze esatte del 1910. Nathorp resta fedele alla maggior parte dei capisaldi del pensiero di Cohen. Li estende anche ai campi della pedagogia e della psicologia, naturalmente non alla psicologia empirica, ma a una psicologia intesa come scienza filosofica, che possa cioè identificarsi in toto con la logica quale conoscenza pura. Ebbene, possiamo altresì dire che Nathorp si impegna soprattutto a insistere sull'aspetto logico-metodologico della filosofia, inteso come la trasformazione di ogni fatto che diventa così un fieri in problema. Questo vuol dire che Nathorp fa riferimento a premesse sempre più fondamentali, e ciò in vista del tentativo di una sempre più rigorosa, ma mai ultima, legalizzazione dell'esperienza. In vista di questo obiettivo si muove pure l'interpretazione che Nathorp prospetta della dottrina platonica delle idee. Le idee di Platone, secondo Nathorp, debbono essere intese come norme della conoscenza vera, come principi della sua universalità e necessità. Nathorp critica il maestro Cohen per aver preteso di unificare le diverse espressioni della cultura in un sistema filosofico retto dal primato esclusivo della logica e della scienza matematica della natura. Ebbene, la moralità, la religione e l'arte sono forme della coscienza che, per essere diverse da quella scientifica, non sono non di meno meno autentiche di quella scientifica. Richiedono anzi un'unità del sistema della cultura che la logica da sola non è in grado di offrire. Per questo Nathorp, secondo un tema già sviluppato nel suo testo Introduzione alla psicologia secondo il metodo critico del 1888, fa una sorta di recupero della psicologia. La psicologia per Nathorp ha il compito di unificare e raccogliere le diverse oggettivazioni della cultura, deve ricondurle al corrispondente vissuto soggettivo. Questo non vuol dire però che Nathorp si distanzi dalle istanze del neocriticismo kantiano e dell'istanza generale del ritorno a Kant proprio della scuola di Marburgo. Vero è, infatti, che non parla di psicologia empirica Nathorp, parla di psicologia filosofica impegnata per potersi costruire come scienza a riportare il vivente mondo della coscienza all'oggettività di un sistema di leggi. Un sistema deve essere tale da essere costruito con la ragione. In sostanza, l'idea è quella di recuperare in un movimento di infinita approssimazione la soggettività pura nella sua originaria immediatezza. Tale punto del pensiero di Nathorp svolgerà una decisiva influenza sulla filosofia fenomenologica di Edmund Husserl. Un altro importante nodo problematico del neocriticismo svolto da Nathorp riguarda il modo in cui egli mostra di intendere il fatto, vale a dire, gli oggetti di cui si occupa la scienza. In perfetta armonia con Cohen nel considerarli produzioni del pensiero, Nathorp nega che siano qualcosa di stabile e di determinabile una volta per tutte. Al contrario, l'oggetto del sapere scientifico non si esaurisce mai completamente nelle determinazioni, che sono sempre provvisorie, mediante le quali la scienza si viene definendolo. Al contrario, poiché è in se stesso un indeterminato in via di determinazione mai destinata a concludersi. Insomma, dice Nathorp, l'oggetto non è un dato preesistente alla ricerca, è invece un compito che non si lascia mai esaurire. Ecco perché, dice Nathorp, nei fondamenti logici delle scienze esatte, non si può dunque più parlare di un fatto nel senso di un sapere conchiuso, ma ogni conoscenza che colma con una lacuna del sapere antecedente susciterà nuovi e maggiori problemi. Un importante completamento di questa visione faustiana dell'essere si trova nella lettura kantiana che Nathorp prospetta di Platone. In sostanza, Nathorp legge Platone in maniera kantiana e canti in maniera platonica. Nel suo saggio del 1903, già citato La dottrina platonica delle idee, un'iniziazione all'idealismo, Nathorp intende la filosofia platonica alla luce della dottrina kantiana delle categorie. In opposizione alla tradizione risalente ad Aristotele, che va ravvisato nelle idee di Platone delle realtà date in sé, delle super cose esistenti in un mondo trascendente a sé stante, Nathorp interpreta le idee come la pensabilità delle cose. Le idee rappresenterebbero dunque le leggi del procedimento scientifico, le funzioni a priori che della conoscenza, i principi regolativi che esprimono il termine, il punto posto all'infinito al quale si dirigono le vie esperienziali. La lettura delle idee platoniche prospettate da Nathorp è in aperto contrasto, si badi con quella che emerge dalla dialettica della critica della ragion pura, dove Kant, come noto, sosteneva che il platonismo sta nell'assimilare le idee di Platone non già alle categorie dell'intelletto, bensì alle numeniche idee della ragione, veri e propri scavalcamenti indebiti dell'empiria a favore della metafisica. Non è tuttavia una dissonanza accidentale. Quel che la scuola di Marburgo respinge di Kant è proprio la distinzione tra sensibilità, intelletto e ragione. Tale distinzione invece deve essere dissolta per la scuola di Marburgo e deve essere ricondotta a un medesimo statuto epistemologico. Ebbene, una tale riduzione comporta l'esaurirsi della ragione nell'immanenza della conoscenza scientifico naturale, nonché il venir meno di quella tensione verso il noumeno che aveva segnato in senso realmente platonico la ragione kantiana e sparisce invece, come ricordavo, nel neocantismo della scuola di Marburgo.